La politica ci ha detto che non si sarebbe dimenticata di noi, ci hanno chiamato eroi, ci hanno ringraziato, noi ci siamo messi a disposizione anche in forma gratuita durante l'esecuzione degli screening per le scuole, per la popolazione e oggi chiediamo il riconoscimento che ci spetta e che ci avevano promesso. Si sono dati appuntamento a Pescara di fronte all'assessorato regionale alla sanità. Circa 80 operatori sanitari questa mattina hanno aderito alla manifestazione che oggi si è svolta in tutte le regioni d'Italia. Il governo nazionale ha già stanziato nella legge di bilancio 335 milioni destinati alle indennità professionali per l'emergenza sanitaria, ma i fondi devono ancora essere erogati. Anche la regione Abruzzo però deve fare la sua parte, dicono i manifestanti. Speriamo che anche la regione riconosca quello che è lo sforzo degli infermieri, degli os, delle ostetriche e di tutti gli operatori sanitari all'interno delle strutture spedaliere e che finalmente si possa in qualche modo investire con dei fondi, quindi concretamente, sul personale, sulle indennità che questo personale ha diritto ad avere. Una delegazione degli operatori sanitari in protesta è stata ricevuta dall'assessore Nicoletta Veri. In Abruzzo c'è carenza di personale e questo non può non ripercuotersi sulla qualità dell'assistenza ai pazienti. Lo aveva ammesso anche il presidente dell'Aggiunta regionale Marsilio, parlando della situazione Covid a margine della cabina di regia di un paio di settimane fa. Possiamo acquistare macchinari e mettere a disposizione più posti letto, aveva dichiarato il governatore. A mancare però sono i professionisti. La nostra lotta è anche e soprattutto per migliorare le cure che noi possiamo dare ai cittadini. Pensiamo semplicemente che gli ultimi studi dicono che per assistere sei pazienti c'è bisogno di un infermiere. Questo rapporto nelle ASL Terramane e Abruzzesi, quindi anche di Pescara, Chieti e L'Aquila, non è rispettato. Ci sono dei reparti dove la proporzione infermiere-paziente è 1 a 14, 1 a 16 ed è invivibile. Ovviamente il personale è allo stremo delle forze. Le persone che ovviamente hanno bisogno delle strutture sanitarie hanno diritto e pretendono una qualità di assistenza elevata, ma per poterlo fare c'è bisogno di personale. Grazie a tutti.